Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata di Essere genitori nell'era digitale. Iniziamo subito specificando che questa è una puntata un po' speciale, primo perché si inserisce nel mezzo della classica programmazione settimanale, è una puntata d'intermezzo, e speciale anche perché, visto il tema che tratta, avrei dovuto esordire dicendo, carissimi professori digitali, perché parliamo di didattica a distanza. È un periodo molto particolare questo, certo potremmo dire tante cose sul periodo, ma in particolare ho ricevuto numerose domande da parte di docenti con cui collaboro per laboratori nelle classi, per progetti nelle classi, oppure anche per formazione ai docenti stessi, e allora mi hanno chiesto dei consigli su come poter trasferire la loro didattica classica, potremmo definirla nelle classi, ad una didattica online. Io mi sono segnato vari punti, infatti ogni tanto guarderò alla mia destra, proprio perché mi sono segnato tutto per evitare di perdermi, perché a differenza di altri argomenti in cui, sì, vabbè, anche se magari proprio non dico tutto, tanto c'è tempo un altro episodio, in questo caso preferisco esaurire, meno per quanto possibile, tutto all'interno di questo episodio. Allora, anziché, e l'ho realizzato appunto anche per venire incontro ad esigenze di altri docenti, che magari incontro anche su Facebook, su Instagram, oppure sul mio canale Telegram, con cui magari non sono direttamente in contatto, ma comunque hanno bisogno di una mano. Allora, partiamo da una premessa. Dunque, tutto questo arriva da esperienze mie, da rilevazioni fatte confrontandomi appunto con docenti, e soprattutto anche attraverso, tenendo conto almeno, del feedback dei ragazzi, perché io ho questa posizione un po' privilegiata di poter vedere dall'alto sia la parte, dalla parte della barricata, da questa parte, ossia quella degli insegnanti, e sia dall'altra parte che cosa dicono i ragazzi, perché poi anche i ragazzi in questo periodo, quelli con cui sono in contatto appunto, appunto, guarda caso anche gli stessi progetti, poi mi scrivono, ah Ivan qua siamo disperati, un casino e bla bla bla. Allora, io ho racchiuso tutto quanto per produrre questo contenuto. Quindi, altra premessa, allora, in questo video, in questo audio, a seconda di come lo stai utilizzando, non parlerò di tecnicismi. Quindi non analizzeremo insieme le varie piattaforme per eccetera eccetera, per un semplice motivo. Se voi avete individuato una piattaforma e volete imparare ad usarla, di sicuro non servo io, perché, cioè potrei farvelo ovviamente, ma non servo io, perché, perché tanto su YouTube, su Google, è già pieno il mondo di tutorial. Volete fare didattica su Skype? Boom, come si usa Skype e come posso usarla per la didattica? E voglio fare didattica su Zoom? Come faccio? Classroom, Google Classroom? E così via, Google Drive e così via. Magari in seguito farò qualcosa, ma diciamo che per questo mi posso prendere un po' più di tempo. E poi anche per un altro motivo, ho scelto questa linea per un motivo molto strategico, ovviamente strategico per voi, ossia trasferire la didattica dalle classi, quella didattica offline potremmo definirla più o meno, ad una didattica online non è solamente una questione di quale piattaforma usare, di quanta connessione, di quanta banda di connessioni e quanta velocità di connessione io devo avere per poter realizzare uno streaming via Skype o chissà dove, assolutamente no, anzi potremmo dire che queste cose alla fine diventano dei dettagli, dettagli non insignificanti sicuramente, ma passano veramente, è un secondo passaggio, perché se prima non adotti gli accorgimenti, questi piccoli accorgimenti di cui ti parlerò, vi parlerò tra poco, vi posso assicurare che qualunque piattaforma voi andrete ad utilizzare, la vostra didattica online sarà un vero disastro. Perché? Perché in realtà la didattica online parte da quando la costruite, da come disegnate la didattica online. E ripeto, una volta che avete capito come si disegna la didattica online, ecco che poi potete molto facilmente trasferirla in qualunque piattaforma voi possiate andare ad individuare. Ora, in questo video sarà più, o audio sarà più una overview, poi eventualmente traremo nei dettagli, ma diciamo potete definirlo un po' pronto soccorso della didattica online, un primo soccorso, anzi, ecco, è meglio. Allora, partiamo quindi dal primissimo punto. L'errore che vedo fare da molti docenti, in buona fede, attenzione, è quello di muoversi individualmente. Lo devo all'iniziativa, sicuramente, perché diciamo che le scuole ovviamente sono degli apparati un po', cioè molto grossi, a volte granitici, non vorrei dire pachidermici, perché poi dipende un po' dal singolo istituto, ovviamente, però diciamo che a livello individuale è più facile muoversi in caso di emergenza, perché è un po' come la differenza tra uno scogliato e un elefante. Certo che l'elefante può fare i chilometri ed in effetti ne fa, però hai voglia di spostare uno scogliato, è più facile che possa sbrigarsi prima. Quindi, sicuramente, ripeto, quella di muoversi individualmente non lo devo all'iniziativa, ma c'è il rischio, anzi, io poi lo vedo dalla parte anche dei ragazzi, di diventare controproducente. E per un semplice motivo, perché senza una coordinazione centrale, leggi, dirigente scolastico, vicepreside, il vice dirigente scolastico, o il referente, o chi ne fa le veci, perché poi dipende dagli istituti, dalle sedi e così via, senza un coordinamento centrale, si corre il fortissimo rischio di una frammentazione, una frammentazione delle piattaforme. Io lo vedo, ci sono delle classi per cui un docente manda gli appunti tramite WhatsApp, e un altro organizza le sessioni in streaming su Skype, un altro invece mette sul registro elettronico l'elenco degli argomenti, un altro manda via email i link da YouTube, dove ci sono video in cui spiegano gli argomenti che si vogliono trattare, e così via. Quindi immaginate un grandissimo casino. Immaginate, se è così difficile seguire una roba del genere, se avete fatto fatica in questi secondi a seguire tutto questo mio elenco, figuratevi i vostri ragazzi. Ma non peraltro, perché anche i nostri ragazzi, anche proprio per l'età, fanno anche più fatica a gestire una complessità. Loro hanno bisogno di direttive più sicure, più centrate, più chiare. E poi c'è anche un altro discorso, che dovendo andare ad inalberarsi in mille piattaforme, si genera anche un attrito cognitivo non indifferente. Perché? Perché ogni piattaforma ha un suo menu, ogni piattaforma ha una sua gestione dei file, ogni piattaforma permette di fare delle cose e non permette di farne altre. E così via. Quindi che cosa succede? La nostra mente nel passaggio da una piattaforma all'altra ogni volta deve riabituarsi al nuovo ambiente. Poi, certo, se è un ambiente conosciuto sarà più facile, ma comunque nello spostamento avviene comunque un grado di affaticamento. Quindi figuriamoci se dopo tutto questo rimbalzare da Skype a Whatsapp a registro elettronico a Google Drive alle e-mail e così via, poi alla fine devi ancora compiere l'enorme sforzo di cognitivo di studiare, perché studiare comporta sforzi sicuramente, e quindi aggiungiamo questo sforzo cognitivo e in più aggiungiamo anche lo sforzo cognitivo per delle lezioni che non sono state preparate appositamente per l'online, perché in questa emergenza coronavirus ci siamo finiti adesso, così di punto in bianco, e questo ovviamente non è colpa di nessuno, attenzione, non sto incolpando i docenti per questo discorso qui, è ovvio che se uno pensa di poter fare una didattica tranquilla, poi trasferire ad una didattica online, come vedremo tra un po', richiede comunque dei passaggi, di strutturare anche proprio in modo differente, non solo il materiale, ma anche la didattica stessa, è ovvio che non è una cosa che si possa fare nel giro di una settimana, quindi sicuramente in questi giorni si fa quel che si può, quindi comunque è necessario, tornando a noi, un coordinamento centrale, centralizzato, che, come avrete capito, vada a definire una piattaforma, e possibilmente che sia una, punto, una, in modo che la classe per ogni materia abbia come riferimento solo quella piattaforma, l'ideale sarebbe l'intero istituto, e questo anche per venire incontro a voi docenti, perché il discorso del sovraccarico cognitivo e affaticamento cognitivo non vale solo per i ragazzi che poi dovranno usufruire del materiale, ma anche per voi docenti che dovete barcamenarvi, quindi l'ideale sarebbe che ogni istituto prevedesse una piattaforma, o comunque più in generale una modalità di fornitura della didattica, ad esempio, perché possono anche essere più piattaforme ma che siano coordinate, ad esempio può essere gli allegati li trovate sul registro elettronico, adesso se il registro elettronico lo permette, lo streaming, che magari non si può fare da registro elettronico, allora per lo streaming ad esempio Skype, punto, my Skype, punto, non Skype, Whatsapp e così via, è Skype, punto, oppure Whatsapp, Whatsapp, punto, ma che sia quello per tutti i docenti, la difficoltà di questo punto è che si riesca a trovare una o comunque appunto poche comunque piattaforme che possibilmente siano già conosciute sia dei docenti che dei ragazzi, poi ovvio ho detto possibilmente perché comunque un minimo di curva d'apprendimento lì ci vuole da parte di entrambi, sarebbe bello poter avere già tutta la pappa pronta ma ahimè non è possibile e non ci è dato quindi questo come primissimo punto ecco come piattaforma ad esempio io vedo che alcune scuole si stanno aggiustando diciamo si stanno organizzando utilizzando delle sezioni apposite del registro elettronico ossia le varie piattaforme di registri elettronici che prevedono la possibilità di avere dei classi virtuali e molto spesso queste sezioni sono sezioni in più a pagamento per cui che quindi non sono previste dal piano tipico solito della scuola queste piattaforme vedo che stanno iniziando a rendere disponibile almeno finché dura l'emergenza appunto in modo gratuito queste sezioni allora il vantaggio è che essendo all'interno del registro elettronico anche i ragazzi stessi hanno già le credenziali non devono installare altre applicazioni non devono aprire nuovi account che poi sappiamo benissimo che i ragazzi soprattutto di una certa età fasce più giovani poi perderanno perderanno la password e così via oddio lo fanno anche con il registro elettronico e per carità però almeno così hanno una ed unica sola credenziale d'accesso punto e non rischiano quindi di perdersi quella può essere un'ottima iniziativa però ce ne sono tante altre c'è google classroom c'è ci sono varie piattaforme ripeto non le definisco qui magari sarà tema di un'altra puntata o comunque potete tranquillamente cercare in giro poi ecco la grave criticità esistono ragazzi sono andato un po' in ordine sparso con i punti che mi sono segnato esistono ragazzi che sono seguiti dagli insegnanti di sostegno ora e probabilmente ecco sono quelli più svantaggiati in questa situazione perché beh possiamo immaginarlo perché se questi ragazzi per studiare hanno bisogno di una persona costantemente vicina quindi appunto di un rapporto individuale o comunque di una persona che in qualche modo digerisca tra virgolette la lezione del professore e la renda più su misura del singolo ragazzo perché ovvio che un docente da solo non può fare molto quando ha 20 25 30 ragazzi allora ecco che questi ragazzi qui solitamente sono i più colpiti l'ideale sarebbe prevedere delle sessioni a parte individuali con questi ragazzi ossia che l'insegnante di sostegno possa interagire direttamente o addirittura andare a casa lì dipende un po' dai mandati è ovvio lì puoi entrare in una burocrazia o in un'amministrazione che dovete poi vedere voi però l'ideale sarebbe questo oppure tramite chiamate videochiamate individuali se ovviamente è possibile con quello specifico ragazzino in modo che l'insegnante di sostegno possa comunque aiutare a digerire ripeto la didattica a fare in modo che questo ragazzino abbia una didattica più personalizzata esattamente un po' come succede già in classe solo che questo avviene online quindi sicuramente almeno in una situazione così di emergenza necessiterà di qualche sforzo in più però non possiamo lasciarli indietro ecco altro grave problema che si verifica e io l'ho visto perché me l'hanno riferito sia i docenti che i vari ragazzi è proprio la disponibilità delle attestature tecnologiche noi vediamo sempre i ragazzi con i cellulari magari anche l'ultimo cellulare quello da 1000 euro questo non vuol dire che in casa abbiano un computer oppure un tablet e sappiamo benissimo che ad esempio un pdf un conto è leggerlo da un cellulare un conto è leggerlo su un tablet o un pc o comunque un computer è proprio questione di schermo oltre che esperienza di utilizzo ma questo è un discorso un po' più tecnico quindi dobbiamo anche prevedere che o comunque verificare che alcuni ragazzi cioè dovremmo prevedere che alcuni ragazzi potrebbero anche non avere a disposizione uno schermo più grande questo è da verificare ed eventualmente organizzare dei piccoli gruppi di studio questo in realtà dei gruppi di studio può essere un'idea proprio in generale ovvio con tutte le accortezze perché insomma se siamo in zone in cui non possiamo uscire di casa il discorso si complica però possono anche esserci dei gruppi di studio virtuali però comunque piccoli e quindi più gestibili ora se è possibile ovviamente se è possibile dalle normative eccetera eccetera allora ecco che dei gruppi di studio in cui magari due, tre, quattro ragazzi si incontrano sarebbe l'ideale che si incontrano da uno di questi che sanno avere la connessione buona e così via perché purtroppo il grave limite è anche quello della connessione perché per realizzare uno streaming serve connessione ad esempio e non tutti ce l'hanno vedere un video ormai bene o male anche con il cellulare quello si d'accordo si può fare poi ecco veniamo adesso a un discorso che un po' risolleva ossia l'altra grave criticità che io noto è che molti concepiscono la didattica online come il semplice trasferimento della didattica offline ossia si pensa se nella didattica offline il professore spiega l'argomento ad una classe di alunni allora ecco che per la didattica online il professore spiega l'argomento ad una classe di alunni allora ecco che si organizzano sessioni in skype con 10 15 20 persone con tutti i casini del caso potete immaginare perché poi i ragazzini comunque fanno fatica a stare al loro posto da questo punto di vista allora in realtà la notizia buona che per carità è anche una notizia buona notizia cattiva se vogliamo dire è che fare didattica online non significa semplicemente trasferire le dinamiche della didattica offline e spostarle su internet perché perché in questo modo la didattica risulterebbe molto fallimentare o comunque diciamo che spostandoci online si potrebbe fare molto di più e soprattutto perdonatemi il termine più meglio sì non si dice ma io adesso lo dico ok questo è molto importante vediamo qualche esempio allora ad esempio se voi state pensando che dovete a tutti i costi realizzare una diretta quindi live tramite video e avete timori perché ma io con il video non sono tanto portato portata oppure poi chissà i ragazzi che poi si mettono più a commentare come sono vestito che non ad ascoltare le lezioni e così via rischi reali veramente accaduti tra l'altro sicuramente allora la buona notizia è che essendo online voi non dovete essere non siete obbligati a fare tutto live ossia in alcuni casi voi potete anche semplicemente registrare il video e pubblicarlo attenzione lasciando però il posto per i commenti o comunque prevedendo una possibilità per interagire con voi perché altrimenti capite che la semplice frizione passiva di un contenuto si può funzionare per alcuni argomenti per alcune materie ma per altre assolutamente no quindi ovvio dove è possibile dove è possibile voi potete anche registrare il fatto di registrare vi comporta un enorme vantaggio ossia quello di poter fare rifare il video quante volte volete finché non siete sicuri o sicure di esserci eh oppure addirittura di editarlo in mezzo potete realizzare se avete delle pause in cui ragionate su che cosa dire e voi dopo volendo con qualunque software anche esistono anche gratuiti per editare i video potete tagliare quei pezzi l'altra possibilità sempre riguardo ai video è che se andiamo ancora oltre una notizia ancora più buona è che dietro questo video non necessariamente dovete esserci voi perché l'errore che spesso appunto si compie è che per spiegare una cosa devo metterci le parole io certo in classe lo fate ma online nulla vi vieta di ad esempio andare su youtube così ci mettiamo anche il comparto video ecco se voi andate semplicemente a prendere materiale da un sito dove è tutto scritto con i nostri ragazzi insomma non è tanto funzionale la buona notizia è che ormai youtube è diventata un'enciclopedia formato video per cui oramai se voi pensate ad un argomento molto facilmente trovate qualcuno che in qualche modo ne parla certo forse per gli argomenti un po' più specifici è più facile trovarli in inglese e allora lì potrebbero esserci problemi ma vi assicuro che se voi andate a prendere gli argomenti di cui vorreste parlare in questo periodo andate semplicemente su youtube fate una ricerca sulla barra e date un'occhiata a quante persone in italiano adesso intendo dire quante persone trattano questo tema e lo trattano in modo molto più frizzante e gradevole di voi ma per un semplice motivo perché molte di queste persone dietro hanno dei registi hanno degli animatori dei grafici dei designer sono vere e proprie rassegne stampa cioè perdono redazioni stampa non rassegne ok bello della diretta sono vere e proprie redazioni stampa oppure sono persone che proprio di lavoro fanno divulgazione scientifica che è diverso dall'insegnare in classe fanno divulgazione scientifica su youtube quindi è normale che loro siano più spigliati di fronte alla videocamera e quindi appaiono anche più convincenti meno inchiodati quindi voi potete temporaneamente anche perché no prendere in prestito questi video indicando il link tranquillamente il link ai ragazzi ripeto però sempre prevedendo un canale di comunicazione di interazione tra voi e la classe e i ragazzi quindi in questo modo vi salvate addirittura da dover comparire voi in video ovvio questo richiede un po' di sforzo nella ricerca del video giusto però se pensate di non essere in grado oppure semplicemente non ve la sentite perché va benissimo non ve la sentite di comparire in video io vi consiglio veramente di prenderla come come un'idea altro esempio di didattica offline che non viene risposta direttamente così come online è che ad esempio molti docenti stanno inviando le schede ai ragazzi schede di argomenti schede di lezioni e sono schede che vanno a cercare su internet ora se i ragazzi hanno già un libro digitale potete tranquillamente indicare la pagina di quel libro che è un libro che loro conoscono già tra l'altro perché magari lo usano già in cartaceo durante le ore di lezione questo è un altro esempio quindi potete trovare sicuramente tantissimo ecco se no poi mi perdo ho parlato di un canale di interazione tra voi e i ragazzi fate in modo che questo canale di interazione anche questo sia centralizzato non che tutti debbano sapere i fatti di tutti attenzione però ad esempio se voi pensate se avete problemi questo è il mio numero mi scrivete tramite whatsapp e riceverete 50 messaggi al giorno e voi dovrete stare dietro a rispondere a tutti i 50 messaggi che poi arriveranno altri messaggi e così via stessa cosa per le email ad esempio a parte che i ragazzini più piccoli l'indirizzo email non dico che non ce l'hanno però probabilmente non si ricordano neanche di avercelo non saranno neanche quali i loro indirizzi email figuriamoci poi se perdono le password e così via però comunque se voi pensate all'email rischiate di di vedervi la vostra casella di posta elettronica completamente intasata da queste email è diverso se invece la piattaforma che voi utilizzate per lo scambio di materiali ha una sezione per i commenti allora in questo modo voi evitate di trovarvi altri spazi invasi dei messaggi dei vostri studenti in più voi accedete ad esempio a quell'argomento lì che è dedicato a quella classe lì quindi è specifico le altre classi non lo leggeranno e i ragazzi avranno commentato con le domande con i dubbi le perplessità a quel punto a voi verrà molto più facile rispondere di conseguenza sempre lì nei commenti in modo da avere un unico luogo centralizzato e soprattutto gestibile da voi è un flusso di comunicazione più gestibile quindi questo è molto importante prendetelo seriamente in considerazione poi ecco poi ci sono altri modi per veicolare le stesse informazioni ad esempio se volete far realizzare ai ragazzi un piccolo test ovvio che non ha validità ufficiale attenzione ricordiamocelo ad esempio potete usare Kahoot che è ottimo per realizzare dei quiz molto bello io ho visto in realtà che lo usano addirittura per le verifiche quindi lo fanno fare in classe ovviamente non a casa questo è un altro discorso però per dirvi se andate a vedere le possibilità che offre potete anche utilizzare queste piattaforme e questi strumenti che usano sfruttano anche l'idea della gamification quindi del gioco con un punteggio il tempo di risposta e così via in modo che anche ai ragazzi potete proporre qualcosa di più dinamico quindi se vogliamo anche di più potremmo dire engaging quindi divertente che li coinvolga di più ecco poi un altro discorso questo è molto molto importante due cose importanti per prima di andare in chiusura la prima che si ricollega un po' a un qualcosa che abbiamo già detto più volte proprio in questa puntata ossia non commettete l'errore di sopravvalutare la conoscenza tecnica e tecnologica dei vostri ragazzi non perché siano stupidi ci mancherebbe però io vedo che molti docenti ancora oggi si stupiscono del fatto che i ragazzi di oggi sempre sui cellulari conoscono mille piattaforme fanno la qualunque attraverso app e così via si stupiscono del fatto che alcuni ragazzi ad esempio soprattutto quelli più giovani magari non sappiano neanche come si salva un file ad esempio in word che se tu gli dici esperienza anche personale se voi gli dite andate sulla barra dell'indirizzo e digitate questo indirizzo loro anziché digitarlo sulla barra dell'indirizzo molto facilmente lo digiteranno sulla barra di ricerca ad esempio perché non distinguono le due cose glielo devi spiegare e così via io vedo molti docenti che poi rimangono stupiti di questa cosa non se l'aspettano allora fate molta attenzione e considerate che il fatto di avere sempre in mano un cellulare non fa di chi sta utilizzando il cellulare un esperto informatico questo è molto 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 diciamo molto molto importante perché spesso si fraintende questa cosa qui perché se noi andiamo a vedere non quanto tempo non per quanto tempo i nostri ragazzi utilizzano i loro cellulari ma andiamo a vedere quali sono le app che utilizzano e soprattutto che cosa queste app richiedono in termini di livello di conoscenza tecnica e tecnologica scopriamo che in realtà sono applicazioni che si si situano su un livello molto superficiale non superficiale nel senso in superficie per cui non è richiesta nessuna conoscenza particolarmente tecnica per poter essere utilizzate addirittura ormai noi non salviamo neanche più i file perché se io utilizzo una versione di Word di quella connessa online oppure direttamente la piattaforma online oppure la suite di Google Drive quindi i documenti i fogli di Google e così via addirittura il salvataggio è automatico ed avviene automaticamente online non devo neanche nessuna icona col dischetto come una volta come i software di una volta fa tutto da solo e così via quando i ragazzi scattano una foto non gli viene chiesto va bene hai scattato questa foto dove la vuoi salvare no automaticamente istantaneamente è sul rullino oppure sull'applicazione che intendono fare il massimo del tecnicismo che viene richiesto da queste applicazioni è di scegliere da quale ad esempio di scegliere la foto dal rullino fotografico allora ecco che i ragazzi sanno che c'è un rullino fotografico sul loro cellulare nel loro cellulare ok quindi attenzione perché in realtà è vero che i ragazzi utilizzano tantissime applicazioni e le usano per tantissime ore al giorno ma sono tutte applicazioni che per essere utilizzate a volte anche a fondo in tutte le loro funzionalità non viene richiesto un altissimo ma anche medio per carità livello di conoscenza dell'informatica del computer o anche del dispositivo che si sta tenendo in mano attenzione questo è un bene perché rende queste applicazioni cioè questi dispositivi molto più flessibili quindi attenzione per me è una cosa positivissima entro certi sotto certi aspetti entro certi limiti però comunque non insegna i ragazzi ad usare un pc a come funziona dentro ok quindi questo cosa ci porta al secondo punto prima di concludere ossia una volta che avete individuato la piattaforma o quelle piattaforme avete capito studiate insieme come collegio docente intendo dire un flusso di lavoro quindi lo streaming lo facciamo attraverso questa applicazione questa piattaforma le schede i pdf vengono li mettiamo ad esempio li mettiamo su quest'altra piattaforma le comunicazioni in questo modo e così via fornite poi delle istruzioni molto dettagliate nette e chiare ai vostri ragazzi forse anche quella sezione speciale del registro elettronico di cui abbiamo parlato prima perché non è detto che la conoscano quindi attenzione ripeto fornite le istruzioni precise su come fare punto questo è un requisito fondamentale bene questi sono degli esempi cioè sono dei consigli esempi di consigli esempi da di consigli da tenere in mente nel momento in cui iniziate o comunque siete già in fase work in progress nel vostro nella scelta della vostra didattica online perché vi ripeto se voi non prendete in considerazione queste queste criticità e di conseguenza questi scamotage queste soluzioni questi accorgimenti che vi ho spiegato in questa puntata qualunque piattaforma voi possiate trovare sarà sicuramente fallimentare non per colpa della piattaforma non per responsabilità vostra e neanche per responsabilità dei vostri ragazzi quindi per il momento questo è tutto io vi saluto prima già che ci siamo permettetemi di indicarvi il mio indirizzo email in descrizione se avete bisogno di altri aiuti oppure se avete commenti dubbi domande da rivolgermi su questo argomento anche perché no poi io posso rispondervi o magari vi rispondo direttamente via email oppure realizzerò altri contenuti questo poi lo vediamo scrivetemi all'indirizzo email che trovate appunto in descrizione poi perché no why not il mio canale telegram attraverso il quale io vi condivido vi segnalo tutti i contributi che io pubblico nel web quindi non solo video non solo audio ma anche articoli non solo nei miei siti sui miei canali ma anche le collaborazioni più altri spunti di riflessione altri link vi ripeto trovate tutto in descrizione per il momento è tutto un saluto da Ivan Ferrero ciao